Sono Domenico De Martino, direttore del Festival Dante 2021 di Ravenna, collaboratore dell'Accademia della Crusca. Dante fa parte della vita di tutti noi, non solo perché, come scrivevano gli accademici della Crusca nella prefazione alla loro edizione della Divina Commedia nel 1595, perché della nostra favella questo divin poeta è la miglior parte, la prima è stata e la principale, che già non sarebbe poco, ma perché Dante continua a insegnarci a credere nel futuro, a contrastare quello stato di miseria, sono le sue parole, con cui la nostra specie, con la sua fragilità, deve sempre fare i conti. E oggi lo sappiamo bene. Mi piace dunque leggere alcuni versi del ventiseiesimo canto del Paradiso. È Adamo che parla. La lingua che io parlai fu tutta spenta, innanzi che all'ovra inconsumabile fosse la gente di Nembroth, attenta, che nullo effetto mai, razionabile, per lo piacere uman che rinnovella, seguendo il cielo, sempre fu durabile. Opera naturale è che uom favella, ma così, o così, natura lascia poi fare a voi, secondo che va bella. Pria che io scendessi all'infernale ambascia. I s'appellava in terra il sommo bene, onde viene la letizia che mi fascia. E El si chiamò poi, e ciò convene, che l'uso di mortali è come fronda in ramo, che sen va e altra vene.